Tapiro d'oro a Bamadeus da parte del buon Valerio Staffelli, in video di striscia notizia, si rega con quelli di Sanremo per dare questo simpatico Tapiro d'oro per quanto riguarda il caso di Blanco, il presentatore, sapeva che questo rapper avrebbe preso a calcio proprio quei fiori che erano stati allestiti, rose rosse nel palco dell'Ariston, ed ecco che il buon Amadeus avrebbe risposto. Il calcio era previsto, però gli ha partita la brocca. Non nasconde dunque il buon Amadeus di questa situazione che si sarebbe verificata, l'esibizione infatti mi ricordo che era una delle che aveva come caratteristica una coreografia di tipo primaverile, però un errore di natura tecnica avrebbe creato letteralmente furia da parte di Blanco, che quindi si sarebbe sfogato attraverso la sua fisicità, la sua imponenza fisica, facendo vedere quello che effettivamente parlando sarebbe stato capace di compiere, vada, realizzare. Però il buon Amadeus ha avuto parole buone nei frutti di Blanco, è un ragazzo semplice, ha un talento, ha 20 anni, semplice, giovane, si è accorto lui stesso che quel qualcosa che HH ha fatto non doveva effettivamente farlo. Nel web ovviamente la scena è di evitare da virare, ha avuto più di due video di visualizzazione e il video della nazione di visualizzazione ha di qualche modo un catalizzato un po' più. Bene, vi ringrazio per l'ascolto per la visione e il video che è di oggi da me qua. Iscrivetevi, andate a proletariano, commentate al chat.